Cari amici, un saluto a tutti voi. Oggi vi presento il nuovo articolo dell'azienda Nino. Come sapete il settore bolognese, soprattutto in mare, sta andando molto di moda e il mercato è diventato veramente molto esigente, come noi pescatori d'altro. Abbiamo avuto molte richieste per un prodotto nuovo. Come sapete la bolognese adesso viene usata molto durante le mareggiate, scogliera, spiaggia e vogliamo avere anche le nostre comodità. Ecco, questo è l'articolo che rivoluziona un po' o almeno, che ci fa, che ci rende, ci rende le pescate più serene, più tranquille e ci fa stancare di meno e ci fa lavorare al meglio. Adesso vi faccio vedere in azione questo prodotto. Indossiamo il nostro nuovo prodotto. Ecco, un poggia canna ragazzi, poggia canna da mettere con la cintura. Ecco, molto facile, veloce e vi garantisco che ci aiuta tanto in una battuta di pesca. Adesso ve lo faccio vedere in funzione. Molto resistente, struttura in metallo che ci permette di avere un prodotto rigido, stabile, dove possiamo fare realmente affidamento sul nostro prodotto. Si regola all'altezza come vogliamo, tramite un semplice pulsantino, possiamo regolarlo come vogliamo. Questo, ragazzi, ci faciliterà le nostre battute di pesca. E allora ragazzi, scusate il rumore del mare, ma era l'unico modo per farvi vedere al meglio la funzionalità di questo articolo. Bene, ci permette di tenere la canna perfettamente in asse con noi. Possiamo regolare l'altezza come meglio ci piace. Possiamo pasturare tranquillamente. Anziché pasturare a casaccio, possiamo tranquillamente direzionare con calma sul nostro galleggiante e mangiare il nostro bigattino e il nostro pelle. Abbiamo la facilità di poter mettere tranquillamente il nostro bigattino e lanciare la nostra canna con molta calma. Perfetto, abbiamo raggiunto il nostro punto di pesca. Mettiamo la nostra canna qua e aspettiamo semplicemente le abboccate. Vi garantisco che una notte con lui ci facilita e ci fa staccare molto molto di meno rispetto a quando teniamo la canna in mano. Non vi resta altro che provarlo e ci vediamo presto con i nuovi prodotti dell'azienda Milo. Un saluto a tutti voi.